Torniamo a parlare del secondo film della serie classica, ovvero il film di Asgard, e vediamo un poco chi sono questi cavallieri contro i quali i nostri protagonisti si scontrano in questa occasione. Si tratta dei Guardiani del Valhalla, questa fortezza che tecnicamente si trova ad Asgard, nonostante poi nella serie classica non se ne parli mai, ed è custodita dal grande sacerdote celebrante di Odino, Baldr, e dai suoi guerrieri. In totale è un gruppo abbastanza ristretto, sono soltanto in cinque, incluso anche Baldr, ai quali si possono sommare, giusto per completezza, anche Freyr e Freya, anche se questi due non sono espressamente dei guerrieri. Andando per ordine, il primo tra i cavallieri di Baldr è Loki. Loki, ovviamente il nome viene derivato dal signore degli inganni, sembra essere il capo del gruppo, nonché secondo in comando dopo Baldr, anche se poi all'atto pratico non mostra mai nessun potere particolare o niente di che. Il suo combattimento contro Pegasus è un pochino impegnativo per Seiya, però diciamo che riesce a vincere senza sforzi poi eccessivi, può essere paragonato quasi al combattimento contro Oresia nel primo film. Allo riguardo va detto che questo film è ambientato tecnicamente prima della serie delle 12 case, però in realtà sarebbe durante. Infatti vediamo Seiya affermare che Baldr si muove alla velocità della luce, forte quanto i cavallieri d'oro, segno che conosce già i cavallieri d'oro. Quindi è possibile che questo sia un Seiya che padroneggia già il settimo senso, il che gli permette di avere una vittoria un po' più facile contro l'avversario. Non viene comunque mai detto che i colpi di Voki siano la velocità della luce e non sembra appunto niente di che. I suoi attacchi si incentrano sui upi, ricordano molto quelli che saranno i colpi di Uxor poi nella serie classica, ma è un personaggio netto di tutto abbastanza piatto, non conosciamo mai le sue motivazioni perché segua Baldr, sembra essere un tipo un po' ambizioso, un po' malevolo per il tipo di cosmo che viene percepito, ma insomma mai niente di che. Il secondo cavalliere di Asgard è ovviamente Midgard, e come sappiamo Midgard è un'identità fittizia assunta da Crystal dopo il lavaggio del cervello da parte di Baldr. Si sa già che nei pieni originali sarebbe dovuto essere un personaggio diverso con il volto di Artax, ma poi si decise di fare di Crystal un nemico in modo da ottimizzare meglio i tempi del film e ricalcare un pochettino tutta la serie di sfiga infinite che Crystal aveva nella serie classica. Fu scelto Sirio come suo nemico perché Sirio era il personaggio più amato nei sondaggi giapponesi e quindi si vuole dare un momento di particolare risalto. E infatti in questo combattimento, tutto sommato alla pari tra Sirio e Crystal, alla fine Sirio la spunta leggermente riuscendo a liberare l'avversario dal controvumentare di Baldr. Non c'è granché da dire su Midgard perché appunto trattandosi di Crystal lo conosciamo già tutti quanti bene. Poi c'è lo spadaccino che in italiano non ha un nome, non viene mai nominato, ma in originale si chiama Uru e mi ha sempre fatto sorridere questo nome perché è lo stesso nome del metauro di Mjolnir nei fumetti Marvel, Mjolnir e il martello di Thor. Quindi potrebbe essere una coincidenza come potrebbe essere un omaggio, una cosa voluta visto che i fumetti Marvel sono di decenni precedenti uscita di questo film. Fatto sta che anche Uru è un personaggio che è al netto di un po' di cattiverie contro Andromeda ma non mostra mai una particolare personalità. Combatte armato di spada, è una delle pochissime spade fisiche e materiali che vediamo nella serie e in un certo senso la usa un po' tipo Excalibur, visto che i suoi fendenti vanno oltre la lama fisica della spada e distruggono l'armatura delle catene di Andromeda, tranciando anche il suolo. Se non che poi viene fatto fuori da Fenix praticamente senza neanche un grosso sforzo, non appena Ikki arriva e quindi non mostra mai assolutamente nessun potere o particolarità degna di alcuna nota. È un personaggio che esteticamente magari può ricordare un pochettino Uxor, la spada potrebbe essere qualcosa che poi è stato ripreso per Magres, però tutto sommato non direi che ha veri e propri corrispettivi nella serie classica, mentre ovviamente Midgard potrebbe essere la base per un mistro tra Thor per l'armatura, infatti l'armatura di Midgard, a parte i colori, è quasi identica a quella che indossa la Thor, è ad Artax appunto per il volto che ci sarebbe dovuto essere sotto la maschera. Quarto guerriero di Asgard, Runemir, il gigante, quello che combatte per un po' contro Fenix e poi riesce anche tutto sommato a metterlo fuori combattimento perché Fenix lo dà per sconfitto quando in realtà sconfitto non era ancora. Runemir, anche in questo caso, personalità piattissima, i nemici di questo film sicuramente non spiccano come caratterizzazioni, è un guerriero, il classico gigante di Sensei, però a differenza dei giganti normali che di solito vengono abbattuti abbastanza facilmente, qui Runemir ha l'ultima risata perché riesce a ferire Fenix abbastanza gravemente. È chiaro che è un po' il modello su cui si sono basati poi per creare Thor, perché oltre alla stazza che è enorme, ha anche quello doppio boomerang che poi nel caso del Thor della serie di Asgard viene sostituita con le due asce, i due Mjolnir che usa in combattimento. A differenza di Thor però Runemir ha un aspetto molto più stereotipato, tant'è vero che non vediamo mai neanche bene il suo volto, è sempre coperto da quel vermo molto pesante con le corna tipo proprio l'immagine fiction dei vichinghi degli anni Ottanta. Non c'è granché che si possa dire neanche su di lui, di tutti questi guerrieri non sappiamo assolutamente niente del perché seguono Baldr se siano consapevoli delle sue intenzioni o altro. Stanno lì, fanno il ruolo, ma cosa vogliono e perché lo vogliono non c'è dato saperlo. Molto più interessante invece è proprio il nemico principale, Baldr, che in questo caso copro perché è pur sempre un essere umano e non una divinità. È il cerebrante di Odino e quindi i suoi poteri sono, diciamo anzi la sua, il suo rango, diciamo che è il livello Iuda di Polaris o grande sacerdote di Atene. È uno dei personaggi umani più potenti di tutta la saga, praticamente sopravvive a qualsiasi cosa, persino la freccia del sagittario ed è necessario che gli corri addosso la statua di Odino con la spada Balmung per ucciderlo. Ha una forza cosmica immensa, impressionante, si muove alla velocità della luce o forse anche leggermente più veloce, distrugge le armature di bronzo praticamente con le mani e come colpi segreti sembra averne almeno due. Uno è lo scudo di Odino con il quale si gira Isabel sulla prua della nave e sembra voler fare lo stesso anche con Seiya se non fosse Candromeda riesce a salvarlo con una catena. Si tratta di una tecnica quindi in grado di bloccare persino una divinità e in quel momento Isabel stava bruciando il cosmo come Atena, era attiva come Atena, quindi il fatto che Baldr sia riuscito a imprigionarla è doppiamente degno di nota. Tra l'altro poi si tratta di una prigionia totale perché in quello stato Atena non riesce nemmeno a comunicare telepeticamente con i cavalieri e ad aiutarli, a motivarli in qualche modo. Sarebbe stato interessante vedere poi se usato su Pegasus sarebbe avuto un qualche effetto diverso oppure no, ma diciamo che sembra una versione ancora più potente della dimensione oscura. Mentre il secondo colpo è quello senza nome con cui sottomette la volontà di Crystal, una tecnica mentale che anche in questo caso ricorda molto i Reggen Romauken di Saga. Quindi sembra che gli sceneggiatori si siano ispirati un po' a Gemini per i poteri di Baldr, rendendolo però persino più fisico più forte. E infatti durante quel combattimento Baldr sembra assolutamente inarrestabile, persino dopo che Pegasus ha indossato l'armatura del Sagittario. Il grosso dei suoi attacchi sono colpi energetici senza nome, ma appunto molto 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 efficaci. Poi ci sono i due fratelli, Freyr e Freya, che sono personaggi creati graficamente da Kurumada. In realtà Kurumada ha creato graficamente almeno quattro personaggi di questo film, perché esistono bozzetti per Freyr, Freya, Baldr e Roki. Non sappiamo se anche Uro e Runmir siano per la sua, perché al momento non sono mai comparsi i loro bozzetti, però sicuramente questi quattro sì. Soltanto che Freyr e Freya poi sono stati proprio ripresi da Kurumada come Alexer e Natasha, ovvero i due fratelli di Blu Grado nel capitolo speciale di Crystal. Per quanto riguarda Freyr e Freya nel film, Freya è un personaggio piattissimo. Sarà, diciamo, la fonte di ispirazione di Freyr nella serie principale, però mentre Freyr è una personalità comunque forte che va a spingere a ribevarsi contro Ilda, cercare l'aiuto di Athena, provare anche a dare una mano a Crystal durante il combattimento con Artax, Freya invece non spiccica quasi mai una parola, rimane sempre soltanto lì a guardare, persino dopo la morte del fratello. È uno dei personaggi più piatti in assoluto. Al contrario, Freyr mostra una certa personalità. All'inizio sembra essere un po' un Casanova, che ci prova persino con Isabel, però poi mostra anche un certo attaccamento alla causa di Asgard quando, temendo che sia Loki, colui che vuole muovere guerra contro Atene, va dal sacerdote Baldr e gli chiede di fermarlo. Viene ingannato, imprigionato, però riesce comunque a liberarsi da solo, ad arrampicarsi fin sopra la statua di Odino, sopravvivendo agli attacchi di Baldr, e alla fine conficca la sua spada nella statua e la fa croare, diciamo, concludendo il film. Quindi è un personaggio abbastanza tragico, che probabilmente prende riferimento al Baldr o a Freyr della mitologia nordica. Purtroppo il suo sacrificio, diciamo che a meno serve, non è un sacrificio vano, però avviene così rapidamente che del personaggio non ci viene reso possibile scoprire qualcosa in più. Ma in quei minuti, in quei pochi minuti in cui è a schermo, comunque si riesce a intuire un pochettino per che cosa combatte, in che cosa creda, è che si tratta di un personaggio essenzialmente positivo, cosa che non si può dire della maggior parte degli altri carrieri di Asgard. Nel complesso, questi cinque Asgardiani, questi sette Asgardiani, per lo più non sono personaggi riusciti. Gli unici che rimangono davvero impressi probabilmente sono Baldr, Freyr e Crystal nei panni di Midgard, ma gli altri Woki, Uro, Runmere, Freya, ci sono o non ci sono, non cambia granché. Voi cosa ne pensate di questi personaggi? Vi trovate comunque degli spunti interessanti, oppure anche loro possono finire tranquillamente nel dimenticatoio, e sono molto meglio i personaggi della serie di Asgard principale. Vi sarebbe piaciuto rivedere qualcuno di loro nella serie di Asgard principale, oppure è meglio che non siano tornati. Scrivetevi come sempre nei commenti qua sotto, mentre da me anche stavolta è tutto. Alla prossima, ciao!